Ciao a tutti, mi chiamo Tiziana e sono una truccatrice. Volete imparare a truccarvi in maniera semplice e utilizzando pochi prodotti? Allora vi aspetto sul mio canale Sommature Makeup dove vi insegno attraverso tutorial con immagini dettagliate e realistiche come fare per valorizzarvi se siete giovanissimi e se non siete più giovanissimi vi insegnerò come fare un make-up anti-age. Io vi aspetto, baciare!